C'è stato un passaggio di fisicità? Allora, guarda, manco se... io non sapevo ora, no? Non è che conoscevo questo FVM, il contenuto e ho appena detto a Gianni, ho detto una cosa un po' ho detto, l'avrà... Guarda, a caso ho sentito un'effusione fisica Cioè, una fusione fisica ho sentito qualcosa ma vedete che fa sempre lì Io parlo con la signora signora, si rende conto? Ma, cioè, alla sua età alla sua età, no? Ma con chi stai parlando? Con la signora, che approva quello che io dico Ma secondo lei, cioè, ma si può avere quel pallino giornaliero di fare il suo sesso estremo che lei sogna da anni? Ma poi è estremo, chi te l'ha detto? Lo penso io, Maria, ma non lo vedi che è come un uomo così, per caso, è vero signora la guarda lei, li risveglia qualcosa ma lei è tutto risveglia dalla mattina alla sera ma che ti vuoi risvegliare? Ormai, tutto è me Ma guardate la faccia Mattina puoi aspettare un attimo? Ma guarda nel volto, sì, proprio di quella che dice non vedo l'ora Non è vero Sì Andiamo avanti Guarda, gli occhi lucidi proprio di quelle donne proprio assatanate Buon volta